Bella a tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro Joker, siamo tornati signori con un nuovissimo video Oggi ragazzi, da come vedrete dal titolo o dalla miniatura ragazzoni, si va a percepire che sto andando a fare una reazione a un video E sto parlando del video di Crazy, Crazy Mad, dove praticamente ha regalato una casa ad un senzadetto E fino a qua ragazzi, bellissimo, una cosa che comunque io amo tantissimo, cioè stati voi dicendo di video io ne vedo veramente a bizzeffa anche a livello americani Vedo veramente tantissimo questa roba perché mi piace veramente tanto, specialmente quando qualcuno dice ah non devi documentarlo Invece sì, secondo me va anche documentato perché comunque può lasciare quel segno, quello spirito in più per fare anche delle bonazioni Che comunque non fa mai male assolutamente, però io mi sono visto questo video perché stavo scorrendo delle tendenze E mi è apparso questo video, ho detto oh voglio vederlo, vediamo un attimino di che si tratta Solamente che a parer mio c'è qualcosa che non mi quadra in questo video Adesso andiamo a rivedere insieme e appunto voglio da parte vostra i commenti qua sotto Vi ripeto e subito voglio mettere le mani avanti ragazzi dicendo che questo non è un video dove sto insinuando quello che ha fatto lui Assolutamente non sto dicendo quello ma voglio solamente un pensiero perché io sono rimasto perplesso Ho visto il video ragazzi 4 volte, 4-5 volte ve lo giuro, porca miseria, secondo me c'è qualcosa che non mi quadra dentro questo video E voglio andare a vedere insieme a voi e voglio qui sotto i commenti ragazzi vorrei più che altro qua sotto i commenti Aprire un dialogo, ok? Perché il gesto è bellissimo ma qualcosa non mi quadra e voglio vedere se anche per voi percepite la stessa cosa Perché io lento anche sotto i commenti, ci sono oltre 1040 commenti sotto questo video Quindi è un video che è andato molto bene e in tanti hanno visto questo video Tutti i commenti quasi positivi, tanti hanno avuto i miei stessi dubbi E io ragazzi ne voglio parlare con voi Vi ripeto questo qua non vuole essere un video contro qualcuno, ci mancherebbe Però se io ho notato questa cosa che forse ho avuto un po' più di occhio rispetto a tanti altri Ho percepito qualcosa, poi se ho sbagliato ragazzi alzo le mani Ci mancherebbe, però andiamo a vederlo insieme Allora il video di cui sto parlando ragazzi è questo qua, ho regalato una casa non si è stato detto E lei tre giorni fa comunque io ho visto tramite le tendenze Quindi è un video che vi ripeto è piaciuto parecchio ma voglio andarla a vedere Ok parte così ragazzi il video Lui dice da quando ha aperto questo canale YouTube ha messo da parte un euro al giorno per salvare la vita a qualcuno Che è comunque una cosa ottima, bellissima Questa qua è una cosa che fa onore, ci mancherebbe Andiamo a vedere avanti Nel nostro percorso abbiamo incontrato tantissima gente che ha avuto bisogno di aiuto E fino a qui ci sta Bellissima cosa, io questa è una cosa che apprezzo tantissimo Anche questo ragazzi, io questo proprio dico Perché non farlo vedere Secondo me uno dice no perché se fai beneficenza o fai qualcosa la devi fare in privato senza dire niente a nessuno Si ci può stare ma io la vedo anche come visto che noi comunque abbiamo un'influenza su molte persone Secondo me far vedere anche questi gesti che comunque quotidianamente non li fa quasi mai nessuno Passatemi il termine Secondo me è anche carino farli vedere in modo tale che possiamo spronare qualcuno a fare anche un piccolo gesto per aiutare le persone che hanno più bisogno E io fino a qua ragazzi sono veramente pieno d'accordo perché sta cosa a me ce n'è bisogno di gente che fa queste cose Ma andiamo avanti Bellissima cosa, assolutamente bellissimo Bellissimo A me già qua un po' le reazioni mi hanno lasciato un po' così però vabbè Allora partiamo dal presupposto che te l'ho chiedito col cuore in mano Cioè se tu hai comprato questa casa realmente con 50.000 euro ti prego dimmi dove perché me la voglio comprare anch'io Perché prendere una casa del genere a 50.000 euro secondo me almeno dove vivo io con 50.000 euro non ti dando neanche il giardino col cancello Ma no perché a Roma comunque se sa i prezzi sono quelli Però se hai pagato questa casa a 50.000 euro C'è posta E io fino a qua ho detto madonna ragazzi ho fatto cose del genere Cioè vi giuro vi stavo vedendo il video ho detto porca puttana Ma ha lasciato un po' storce il naso il fatto dei 50.000 euro della casa Ma oh passiamoci oltre E oh c'è posta 50.000 euro vediamo un po' di meno E fino a qua ci sa Fino a qua ci sta dici io sotto al ponte c'è la maggior parte delle persone che si può nascondere Ma quello che mi ha sospettito ragazzi è da qui Io il video l'ho rivisto veramente tante volte Qui ho rivisto questa parte del video Loro fatta al caso Trovano una persona sotto al ponte Fatta al caso Cioè i ponti sono vuoti Ok Ne trovo una lì seduta tranquilla Andiamo da lei poverina Diciamo che è un po' scontato il fatto che se la signora sta sotto quel ponte La casa non ce l'ha Perché non penso che se la signora aveva la casa stava sotto al ponte Vabbè Ciao piacere L'altra cosa che mi ha molto insospettito È come è vestita la signora Nel senso questo vestito alla befana diciamo no Ok chiamiamolo così perché è un vestito fatta al caso Tutto nero Con queste stile toppe Per farla sembrare Un senza tetto Mi ha un po' insospettito ragazzi Nel senso che Una scatolina con due buchi fatti così E questa può vivere sotto al ponte Secondo voi una persona del genere può vivere sotto a un ponte da tanti anni o tanto tempo? Bellissima signora assolutamente La classica nonnetta bellissima Ma ha scelto lei questa vita oppure diciamo è finita qua perché non ha un lavoro Non penso che una persona c'è la vita del falsenza detto però ci potrebbe anche stare per l'amor di Dio No perché con la pensione non ce la faccio E purtroppo queste cose sono vere Poverina raga Quanti anni ha? 76 Senta io sono venuto qua infatti c'è anche una telecamera che ci sta riprendendo Volevo chiederle se le piacerebbe passare una giornata con noi insomma Se mi fa piacere magari magari mi sarebbe un pochettino Va bene dai allora Lei è bellissima comunque a parte i scherzi Nonna Sara Che stiamo a accettato che stiamo a A Maria De Filippi Allora Questi sono i tuoi vestiti sì Io vedo solamente un giacchetto Una coperta ben piegata sotto il suo sedere della signora E non vedo nient'altro Io dico Se una signora sta qui da tanti anni E vive sotto un ponte Non sta così regà A mio avviso eh Ma poi vi faccio notare un'altra cosa che probabilmente qualcuno ha notato Ok porto via la signora Mettiamo i vestiti dentro il cofano Mettiamo i vestiti dentro il cofano Una scatola perfettamente Pulita Perfetta Che sta lì da anni da quello che presumo Però vetti che l'abbia cambiata sta scatola Un giacchetto e una coperta ben piegata Andiamo avanti Il vestito della nonna E quello che io dico ragazzi Anche il vestito che utilizza la signora È un vestito preso secondo me In un negozio Perché Che è ricamato Non so che cacchio ci sta E poi la cosa che a me Mi ha Tanto insospettito Ok Che mi fa storcere un po' il naso Quello che sta succedendo era davvero reale Io vi faccio vedere La povera donna non aveva ancora capito quello che le aspettava Era incredula Aveva anche paura Però poi si è ricreduta Madonna Sentite qua ragazzi Da quant'è che non si fa una doccia O indossa questi Questi vestiti Da tanto tempo che non mi lavo E ho sempre i stessi vestiti Da tanto tempo che non mi lavo E ho sempre i stessi vestiti Partiamo dal presupposto che La signora è più pulita di me Cioè la sciarpa non ha una macchia Il Diciamo il Il coso di Come cacchio La macchina qua Non so come si chiama Vabbè quel coprispalle Di lana È perfetto È pulitissimo La signora addosso non ha una macchietta Cioè se sono anni Che non si lava E se sono anni che sta sotto quel ponte Come fa ad essere così perfetta Questa signora Raga È perfetta Cioè sembra mia nonna Che la sta a portare al mercato Vediamo la sincerità Anche il vestito Cioè i guanti Le mani Parti bianche del vestito Il vestito stesso Che vi ripeto Con queste doppette Stile Befana Mi lascia a sospettire I rigami che c'è Il vestito Completamente nuovo Cioè la signora Ha i vestiti Completamente Nuovi Nuovi E quindi Se lei dice Che sono anni che insalava Sono anni che c'ha I stessi vestiti Sta cosa mi ha fatto Ok andiamo avanti Lei è carinissima Raga Però Secondo me La nonna Sa recitare anche abbastanza bene Sono sempre Mie parieri Ovviamente Vabbè qui diciamo Prendono Qui prendono i vestiti Ok Qui prendono i vestiti Allora Io ho questo Non lo so ragazzi Vi ripeto Forse sbaglio io Forse ho malizia io Non lo so Aiutatemi a capire questa cosa Perché Non vorrei Non vorrei Ma La signora Palesemente finta di piangere A mio avviso Ok Non pianga dai Non è sicuramente di che Non versa una goccia di Di Non c'è una lacrima Questa cosa che sta facendo Inchinare la testa E fare così Ragazzi Lo fa quasi per tutto il video Ok Cioè quando C'è un qualcosa Lo fa quasi per tutto il video E a me mi dà l'impressione Che non sta minimamente piangendo Ok È una mia sensazione Raga Attenzione Ditemi voi Sì tutto molto carino Con l'effetto Vedi Eh Raga Sta parte qua Raga Allora Sta parte qua Dove la signora Chiene la testa E se ne va C'è Va bene Guardate C'è Vete le mani in faccia E andarsene dalla telecamera Non lo so Raga A me Vi ripeto Io ho visti tantissimi I vidi sti video E non me sta lasciando Cioè me sta lasciando Solamente che Mi sento un po' preso per il cucolo Allora la donna Sara Si è fatta la ceretta Che poi la sta facendo La ragazza del video Perché il giacchetto rosso Comunque penso Che la sta facendo La ragazza del video Anche i capelli Quindi fa anche la parrucchiera Ok Carina sta cosa Vedete C'è sempre il fatto Di inchinare la testa E fare grazie 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 Con quella voce E fare finta Di piangere Vedete Non ringrazio per ogni cosa È bellissima Si è fatta la tintura Ed è ora un amore Perché prima Mi ricordo come l'avevamo trovata Nel ponte Era veramente una cosa orrenda Prima come l'abbiamo trovata Nel ponte Era veramente una cosa orrenda Allora qui siamo a 6 minuti e 32 Una signora pulitissima Una signora Per Oh raga Io Non lo so A me Come la fa Come fa E sorrenda Sta signora È stra pulitissima Non ha niente Non ha cartoni per terra Non ha vestiti per terra Non ha buste La busta dove lei mangia Cioè lei non mangia niente Un po' di spazzatura Doi Do la buttata Non c'è un minimo di cibo Non c'è un minimo di bottia d'acqua Non c'è niente Sta signora Ecco c'è quella bustina Che cosa La signora è tutto Tranne che in cattivo stato Quello che vedo io ragazzi E poi vi ripeto È il mio Un mio pensiero La doccia L'ho fatta fare La doccia Vabbè comunque Guardate bene Avete visto la signora Ok no Questo taglio dei capelli Sul biondo Ok Già alcune cose Mi hanno dato un po' di sospetto Le ho viste Vi faccio vedere Non posso ancora dirglielo Ma si deve fidare Ok Va bene Ok Adesso andiamo Ok qua Rirona verso il posto Ok Sentite la signora Sentite la signora Io vi ripeto Non vi senti I sedi Qua la signora dice Ma questa è casa tua Una volta E lui giustamente dice no No Non è casa mia Adesso le spiego Scena Donna Sara Che le dico tutto Ok Prego si accomodi Sentite quella tratta Che dice la signora Venga pure Ma questa è casa tua Seconda volta Ma questa è casa tua No Non è casa mia Però ci può stare Io l'ho portata qua Per dirle una cosa fondamentale Questa casa che Allora regà Allora regà Ditemelo con me veramente Perché non lo so Io Ho questa sensazione Veramente Brutta Nel senso Adesso Quando lui va a svelare Che la casa non è loro Ma è della signora Neanche il tempo che lui dice La signora Fa sempre Questa cosa Che Qua me ma dopo Completamente di Sete Allora A parte la pubblicità La signora che fa subito Neanche il tempo che dice Sua Urla dicendo No oddio Non ci posso credere Qua di là Io regà Non ho visti a milioni Di sti video E Anche la gente Quando tu gli regali Un pezzo di pane Ti rimangono a guardare Così Ti ho vedi Cioè non c'è Invece l'hai subito Avuto sta reazione Casa è sua Subito No oddio Non ci posso credere Le mani davanti agli occhi Qua guardate regà Non lo so Vedi Cioè vedete regà Non pianga Esatto Non pianga Nonna Sara Questa casa No no Vedi Le classiche Le classiche mani Davanti agli occhi Per coprire Il niente regà Il niente Che poi io dico Tu regà Hai una casa senza tetto Ma sta cristiana Senza stordi Non c'ha niente Ma e bollette Ma come se le paga Ma vabbè Perché sto arrivando A migliori di euro Di prezzi Cioè una casa del genere Senza soldi Ma come cacchio So mantiene Dovresti fare anche un video Dove O la finanzi tu O Perché una signora così Lavoro non lo può trovare Come se la mantiene Casa sta porra signora Con una pensione misera Che ha detto che prendere Che non riesce Tu gli dai una casa Dove deve pagare X bollette Fare la spesa E tutto quanto Quindi vuol dire che lui Si prenderà l'impegno Anche di fargli spesa Bollette Eccetera eccetera Ma non finisce qua ragazzi Che poi vi ripeto Casa così 50.000 euro Io non ci credo mai Che tu l'abbia pagata La casa 50.000 euro Sta casa È impossibile Che poi la signora Sia bellissima E dolcissima Non lo metto in dubbio Mi da proprio Della nonna Pare una nonna loro Capito come Vedi Rega Non ce la faccio Rega La signora Non ho mai visto Fare nessuno così Già nel senso E qui Parte un altro Mio pensiero Vedete Non c'è una lacrima Signora Anche i guanti I classici guanti Che la nonna E il cappello Che ha da anni La nonna Ha il cappello E i guanti Da anni Con la sciarpa Gli fanno fare una doscia Si cambia i vestiti Nuovi Tutto quanto E gli lasciano il cappello I guanti E la sciarpa Di anni Puritissimi Al negozio Avrei comprato anche quelli Non mi faccio Fa la doscia E poi gli rimetto La roba sporca addosso La vediamo La vediamo Vedi sentite che ha detto qua ragazzi L'abbiamo vista Sentite La vedevamo ogni giorno là E che vivesse sotto un ponte A me Stasignora vi ripeto Sembra tutto Tranne che vivesse sotto un ponte E che stava tutti i giorni lì A mio avviso Ma qui adesso ragazzi Parte la parte Pure che mi ha fatto Ancora di più sospettire Ok La nuova casa È tutta per lei Che bella Che bella Che bella La casa dei miei sogni E questa qua ragazzi È una casa Che è già vissuta Tu non puoi comprare Una nuova casa Che è completamente Arredata Ma fino a qua Ci sta che ci sta Il divano Il tavolo Però Una casa già Con i quadri appesi Una quadra Con il portabiscotti O quello che sia Una casa con Delle pentole Che già stanno Sopra i fornelli Una macchinetta del caffè I piatti sporchi Dentro al lavandino Un maglione Sopra Alla sedia Ok Una bottiglia d'acqua Già usata Sta casa Vedate tutto Tranne che De nuova Anche perché Dietro le pareti Ci sono dei quadri Questi quadri Raffigurano una Bambina Una ragazza Lì che ha fatto Penso la comunione Qui dietro c'è questa foto Che mi hanno sospettito Veramente tanto ragazzi Perché tra poco si vede Guardate Allora Qui si intravede Non so se ci fate caso ragazzi Spero che nello zoom Come si vede un po' Una signora Un signore Una signora bionda Un po' più giovanetta De lei La casa dei miei sogni Blah blah Ok Vabbè Yuhuu Allora vi faccio vedere Ragazzi Una cosa Riuscite a vedere bene Qui dietro ragazzi C'è un signore Con una signora Con i capelli biondi Più o meno lo stesso taglio suo Un'altra foto qui Con due signori E una Bambina Ok Di là c'è un'altra foto Come una bambina I piatti comunque sporchi Nel lavandino Già le pentole Sui Regà La macchina del caffè Un portabiscotti O quello che sia Cioè nel senso Io qui Ho visto tutto Tranne che una casa Nuova La sua nuova casa Cioè È tutta per lei Regà guardate Io non voglio essere malizioso Però Una foto qui Un'altra foto qua Cioè io penso che Quando tu compri una casa Ok Quando tu compri una casa Chi ci abitava prima Comunque leva tutto Regà Non ti va a lasciare Le foto dei ricordi Non ti va a lasciare Eventole sopra A A A La cucina Non ti va a lasciare Una macchinetta del caffè Non ti va a lasciare Portabiscotti Non ti va a lasciare Niente Niente Regà Sta casa Già arretata così E foto E fate al caso Dietro qui Con sta foto C'è una signora Con i capelli corti Biondi Come la signora La signora iper pulita La casa dei miei sogni Cioè Quale sia Vedi La casa già Con una bottiglia d'acqua aperta qua Una bottiglia d'acqua aperta lì Un paio d'occhiali Un paio d'occhiali De una signora Sul tavolino Abbiamo messo qui Un sacco di cose Queste sono cose Che già ci stanno Regà Fate al caso Cioè I straccetti Con i portabiscotti O quello che sia Abbiamo comprato Una stufa Ah stufa c'è posta Che l'hai comprata Abbiamo comprato Delle pentole Abbiamo comprato Delle pentole E vi ripeto Ci stanno già tutti i vasetti Sopra Posizionati La piantina Un'altra foto Un'altra foto In bianca Che nero La tv Guardate qua Ecco qua si vede bene Vi prego Zoomate qui Una foto di un signore Che io presumo sia il marito E questa è palesemente Lei regà Ma io ho visto anche il video Quello di dose Dove Con Michele La storia di Michele Io me la sono seguita Tutta quanta ragazzi E lì si vede proprio Si vede Cioè ok La mi trasmette Un qualcosa Quel cazzo di video Quel percorso Che ho fatto con Michele Vedere questo video qua A me regà Mi ha lasciato veramente Tanti tanti dubbi E tanti sospetti Poi sotto nei commenti Tanta gente Non se ne è neanche resa conto Ha visto solamente il gesto Ma perché non avete visto Che la signora sotto al ponte Era iper pulita Non aveva niente per terra Non aveva avanzi di cibo Di botti d'acqua Aveva più botti d'acqua Dentro casa Che era già usata Sta casa Cioè due Hai comprato una casa nuova E gli hai lasciato i piatti sporchi E gli hai lasciato le foto attaccate Cioè Quelle foto lì Di chi so A me regà Sta cosa Mi ha lasciato un po' così Io ovviamente Lascio a voi i commenti Qua sotto In questo video Fatemi sapere che ne pensate Regà Datemi una mano Perché probabilmente Potrei sbagliare io Però tutti questi segnali Tutti questi piccoli Cose che ho visto Anche adesso Il paio di occhiali Lì sul tavolino Fate al caso Con lo stesso stile Che c'ha la signora Cioè gli occhiali Sono lo stesso stile Che ha la signora Sugli occhi Come cazzo Allora ci fanno a stare lì regà A me sta cosa Ma veramente Tantissimo Un sospettito Adesso C'era anche un caricabatterie Attaccato con il filo sul divano Qui c'è un caricabatterie Con un filo Attaccato sul divano È un mio pensiero Sbaglierò Non me ne vogliate male E Se così non fosse Ma Il gesto In sé per sé La cosa di fare questo gesto È un gesto bellissimo Ma Per me ci sono troppe Cose che non vanno Già dalla casa che tu dicevi Dei pagare 50 mila euro Che per me non è così Non è Cioè una casa del genere Non può costare 50 mila euro A meno che O non Potrei anche sbagliare Io perché sono abituato Ai prezzi di Roma Quindi ok Però La signora sotto al ponte È completamente pulita Perfetta Lucida Più di me Gli hai detto di fatta fare la doccia Ma gli hai lasciato addosso Gli indumenti Cappello Sciarpa Guanti De anni Che l'ha usati Completamente puliti Lascio a voi qua sotto i commenti Il video non so quanto sia durato Fatemi sapere Quello che pensate voi E se qualcuno Ha il mio stesso pensiero Ragazzi Che secondo me Questo video Fatto da lui Io non ho nulla Contro di lui Ci mancherebbe Questo magari Ce ne stanno milioni di persone Che fanno questa roba qua È stupenda Ma Sta signora È una nonna De qualcuno di loro Che è stata anche bravina A recitare Ma per me Il video È una pesa per culo Questo è un mio pensiero Quindi ragazzi Fatemi sapere voi Che non lo seguo sotto nei commenti Noi ci vediamo un po' Sepputamento Con questo video Non sto né distando Nessuno cosa avanti Ma è un mio pensiero A un video che ha pubblicato Trovato in tendenza Perché non lo seguivo io ragazzi So chi è ma non lo seguo Trovato un video in tendenza Con sotto i messaggi C'è gente bel messaggio C'è gente come te Sì Ma avrei preferito Che nella fine del video Se questo video È paresemente Per me Fake Lui faceva un pezzo di video Dove diceva Ragazzi guarda questo qua Era un video Ironico Per far capire Alle persone che basta Un piccolo gesto Non lo so Non lo so regà Non lo so Perché Fallo passare Il video Veritero Non c'è sta Che ma mi don Come on Come on Come on Come on Come on Come on C'è un amico.